All'indomani dell'invasione dell'Ucraina si susseguono le riflessioni su quello che si pensava potesse essere Putin, un capo di governo che garantisse democrazia così come apparentemente è stato dal 99. Invece così non è stato. Ieri l'invasione dell'Ucraina ha dimostrato che le sue mire sono ancora per lui un'ossessione. Non lo è perché non può esserlo, perché la storia ha una sua lezione che non ha termine. La Russia è sempre stata governata da un autocrate, si chiamasse esso lo zar Nicola II, si chiamasse Lenin o Stalin, si chiamasse Yeltsin o si chiama Putin adesso. Quindi è un po' una nostra idea occidentale di voler vedere la possibilità di una democrazia dovunque. Credo che in Russia una democrazia non sia attualmente possibile come non lo sarebbe possibile in altri paesi dove questa tradizione non c'è mai stata. Le ragioni storiche che sono proprio alla base di questa invasione? Le ragioni storiche sono di tre tipi. Una è quella attuale del controllo delle zone russe in Ucraina. L'altra è evidentemente il controllo delle risorse, il grande granaio d'Europa se non dell'Unione sovietica, l'ex Unione sovietica. E la terza è, ahimè, una lezione storica che spesso non sentiamo sui giornali e sulla stampa. E cioè che mentre noi siamo cresciuti nella cultura della resistenza, poniamo, loro sono cresciuti nella cultura di Tolstoi e dell'invasione napoleonica. Qualunque manovra della Nato ai confini della ex Unione sovietica viene vista come la nuova grande ossessione della nuova invasione napoleonica, senza dimenticarci l'invasione hitleriana, che è anche quella un grandissimo incubo nella storia dell'Unione sovietica e della Russia. E questa popolazione è cresciuta in questo incubo, per cui qualsiasi sanzione, qualsiasi movimento di truppa, qualsiasi azione dell'Occidente viene vista come una possibilità di invasione. E' ovvio che non è questa la causa, ma è la motivazione che Putin dà all'interno. Dal punto di vista dello scenario geopolitico, la posizione della Nato di non attaccare, ma di garantire soltanto una protezione così ai confini? Fa bene a non attaccare perché apriremo un nuovo conflitto afgano, da cui usciremmo tutti con le ossa rotte, la Russia e noi, l'Occidente. Fa male perché al tempo stesso solo le sanzioni non garantiscono nulla al processo di pace. A mio avviso, con un certo cinismo, la storia deve fare in qualche modo il suo corso. Finirà che Putin, a mio avviso, si riprende le fasce esterne, orientali, dove sono popolate soprattutto da russi più che da ucraini, con grande ingiustizia verso il popolo ucraino, naturalmente. Io non sto assolvendo Putin, sto parlando da storico con la visione realistica dei fatti. E speriamo che il conflitto finisca così circoscritto, altrimenti ricordiamocelo che in quella zona sono scoppiate già due guerre mondiali. La prima nella zona balcanica, con la Russia che premeva contro l'impero Guglielmino, e la seconda con l'invasione polacca di Hitler, ma anche con l'invasione sovietica dall'esterno, d'accordo con Hitler da parte di Stalin. Quindi, grande attenzione.